Ciao a tutti amici e amiche di Entry Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato a RimWorld e questo è il terzo episodio della serie ragazzi Allora, fino adesso siamo riusciti a creare un po' di stanze e devo dire che tutto sommato le cose non stanno andando malissimo Sono le 5 di mattina, l'indomani questi ragazzotti dovranno sistemare definitivamente i cadaveri che hanno accoppato il giorno prima Quindi ci saranno due bare, non mi ricordo se le avevo costruite ma penso che lo farò molto presto Potremmo fare un piccolo cimitero Direi che qualcosa di accogliente per i nemici che ci raggiungono da Norte Potrebbe essere qui Ok, facciamolo, strutture varie, se non sbaglio, tomba Ok, 1, 2 e 3 Nel caso in cui arrivasse qualche nuovo simpaticone Intanto vi dico una cosa Ho cambiato le priorità manualmente di tutti i nostri ragazzi Quindi adesso Rex sarà disegnata ai campi e all'allevamento e la caccia E a secondo posto anche pulizia, trasporto e arte Tutto il resto rimane secondario Pansi il nostro warden sarà quello che parlerà con i prigionieri quando ne avremo Quando non parlerà con i prigionieri ricercherà Infatti voglio creare un tavolo di ricerca il più in fretta possibile E come abilità secondaria ha la cucina, la crescita, l'agricoltura e anche lui l'arte Forse potrei segnare un cuoco in più Vediamo chi è il cuoco migliore 4, compassione, 3, 3 e 1 Forse Brian potrebbe diventare un cuoco Perché no? Portiamolo a 1, avanti Quindi Brian sarà cuoco, sarà costruttore, riparatore perché ha degli ottimi valori E anche escavatore Mentre Blitz, il nostro ingegnere, sarà il dottore Perché ha degli ottimi valori e poi ha una piccola passione Costruttore, riparatore e anche lui in miniera Tutte le altre attività per ora sono secondarie Come Taylor che è il sarto, l'arte, il crafting, gli oggetti eccetera eccetera Intanto Blitz sta costruendo la vara Quanto è carino mentre costruisce le tombe per i nostri assalitori Andiamo a riempirle Ah no, va a riempire i sacchi di sabbia Ci pensa Rex Ci pensa Ah, aspetta, aspetta, qui abbiamo già due tombe Ah, caspita Ah, troppo tardi Adesso abbiamo due cimiteri Mmm, interessante Pensavo che Rex però fosse una specie di contadina E quindi adesso, ah ecco, sta andando a piantare le patate Esatto, prima ha trasportato il cadavere nella discarica e poi va a piantare le patate Forse Brian potrebbe darci una piccola mano Con questo cadavere magari lo puoi seppellire per favore Brian Grazie Intanto allarghiamolo, discarica Visto che mi sembra che ce ne sia poca Eh, discarica uno, discarica due No Rimuovi Zona Nascondi Copy settings Yes Pass settings Oh cazzo, non so come si fa Discalica Ecco fatto Adesso è tutto a posto Uff, va bene Allora, Rex sta raccogliendo le patate Brian sta portando le cose in riserva Benissimo La nostra cella frigorifera funziona? Sì Abbiamo zero gradi E Pan si sta cucinando È perfetto Benissimo Non potevo chiedere di meglio Sì, potrei chiedere di meglio in realtà Ripulire questa stanza Perché fa un po' schifo È sporchissima E magari facciamo anche un pavimento Ok, visto che qui vedo tanto acciaio E ci serve un po' di spazio per fare la sala della ricerca Io direi di dare un ordine Molto presto Di scavare un altro tunnel Che sarà tipo qui E qui creiamo magari una bella sala Che sarà una sala tipo da crafting Spinto E in questa sala Però facciamo magari due ingressi Così tutti possono iniziare a picconare C'è l'acciaio Ed in questa sala Creerò appunto il tavolo da ricerca Che deve essere molto molto utile Da fare E il più in fretta possibile Ne hanno già seppellito Ok, uno me l'hanno seppellito Perfetto Seppellito o sepolto O entrambi Ve lo direte poi nei commenti Mi sento un po' capra in questo momento D'accordo Va bene ragazzotti Mettetevi al lavoro Allora Blitz sta già scavando il suo tunnel Ma un'area è stata rivelata Andiamo a vedere Brian, hai appena trovato un'area Vuol dire che qui dietro c'è qualcosa Oh mamma mia Ce l'avete paura Velocizziamo Brian scava Brian non scava più Ma io ti ho detto di scavare Che cosa sta facendo Relaxing socially Ah già Scusate È l'ora del test Sono le 14 I nostri ragazzotti vanno a sedersi al tavolo E si rilassano D'altra parte Devo stare attento all'umore Mood Come vedete Come vedete quando si rilassano La gioia sale Il comfort sale E quindi va bene Perché altrimenti diventano pazzi Poi si arrabbiano troppo Il mood migliore ce l'ha Rex Perché So the plant Perché ha disolato il terreno Quando zappa la vigna Rex è contentissima Perfetto Però io voglio vedere cosa ha trovato Brian Vediamo vediamo Oh yeah Area revealed E che cazzo sarebbe Beh non mi sembra niente di interessante Però la cosa positiva È che qui ci possiamo già fare Il nostro tavolo da ricerca Per esempio Questa può essere un'area ricreativa E di laboratorio O una cosa del genere Proseguiamo Intanto Rex dovrebbe aver finito con i campi Magari si mette a pulire Adesso abbiamo abbastanza pasti Sì abbiamo tantissimo riso E tantissimo cibo in generale Però devo fare una cosa Deposito Devo dire Che il cibo Non lo devono portare qui Assolutamente Tutto il cibo va qua Va nella cella frigorifera Perché Anche il riso poi si deteriora Anche se passano tante stagioni Però Meglio cucinarlo O spostarlo nella cella frigorifera Va bene Cargo pods Cosa è arrivato? Camel hair Peli di cammello Peli di cammello Caspita Era proprio quello che avevo chiesto Grazie Babbo Natale Va bene Ma diciamo che i nostri ragazzotti Si rilassino socialmente Tanto sono tutti abbastanza amici Anzi Non insultare Brian Hai detto Va bene Ma sembra che siano tutti abbastanza amici Dai L'ingegnere è andato a dare una zappatina Prima di andare a dormire Però l'ingegnere blitz Dobbiamo pulire la stanza Perché sennò questo mi diventa triste Ok Finita la luce Tanti saluti Ciao C'è la frigorifera? Lì domani dobbiamo prioritizzare qualcosa Buongiorno Buongiorno ragazzi Ho appena piazzato una turbina Eolica Che mi darà una mano Nel cumulare più energia Però ovviamente Dobbiamo ripulire tutta questa zona Dagli alberi Altrimenti non funzionerà E per questo motivo Credo che darò a Rex Non appena avrà finito Di spostare cose Di tagliare i pioppi Blitz intanto ha Fatto già l'impalcatura della turbina Bravo Anche tu devi tagliare il pioppo Tagliare il pioppo Tutti a tagliare i pioppi È un'attività bellissima Uh abbiamo trovato l'acciaio plastico Il plastil Il plastil è potentissimo Perché ci si possono fare delle armi ottime Blitz mi piace la tua camicetta rosa Comunque Sei molto carina Sì 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 Dove da dove 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 Ah stai spostando le patate Nella cella frigorifera Va bene Adesso torna a tagliare i pioppi Ma perché se ci sono i pioppi ragazzi Blocked by pioppo Come si dice in inglese No Abbiamo poco vento È ancora blocked by pioppo Sì E poi qui abbiamo un'altra quercia Ok Ancora due alberi Poi ci siamo quasi E poi c'è da levare anche A questo sasso Benissimo Sposta il marble chunk Perfetto Adesso abbiamo una turbina eolica Che dovrebbe lavorare anche di notte E quando raggiungiamo i momenti di picco Carichiamo le quattro batterie Mi gusta Ok Dedichiamoci alla zona della Ricreazione Slash Ricerca No Sarà un laboratorio Punto Ok Rex grazie Adesso sposta questa robaccia Perché il nostro ingegnere Deve dormire stanotte Sapete una cosa Che dovrebbe aver messo La discarica un po' troppo lontana Però ormai è andata Troppo tardi Dove stai Pansy? Ah Pansy sta tagliando l'erba attorno Sì Penso che questo non sia più così necessario Ma ormai Tagliamola Questa è un'ottima zona Perché il vento Sì Soffia Anche se non sta andando al massimo Beh dipende dal Dal momento Credo Devo lì sì Olaf Pulisci le triti di roccia Ok Vuole spostare proprio questo acciaio Ma io non glielo lascio fare Voglio che pulisca tutto Prima Sono terribili Non so Ma Appena messo Due chili di acciaio sul letto Dell'ingegnera Di Blitz Vai che ce la facciamo Vai che ce la facciamo Tutto pulito Vai Fantastico Ok Blitz è instancabile Comunque Che belle cose Ah il nostro voto è grande Avremo la stanza Da notte Letti e colazione E poi la stanza da giorno Con i laboratori Mi gusta Mi gusta Muchissimo Raid Signori Abbiamo Tiffi Cazzo le granate E Kimmy Cazzo le granate Forse l'ho già detto Cazzo hanno le granate Allora Tutti fermi Mamma mia Arruola tutti Arruola tutti però Ammazza Questa sarà difficile Perché sono già Oh no Sono già veramente Oddio mio Blitz Blitz ha una clava Blitz la clava Ok Ecco Le lancia granate Ci fanno danno Queste bestie Vai Rex Faccio e sogniamo Ok Tiffi è stata colpita Quindi adesso Facciamo Questo bel giochino Grande Headshot Non ci posso credere Ok Tiffi è andata Blitz attacca Kimmy Tratto Tiffi è un fabbro E l'abbiamo soltanto stordita Vai A chi mi sta scappando L'abbiamo presa Corri Correte È il top È semplicemente il top Allora Ducatura subito Tiffi E tra l'altro Le lancia granate È anche Una bellissima Razza Niente È andato ragazzi Chi è il nostro pompiere? Ha poco riservato a Pansy Ok E questo? Spegni gli incendi Buono Molto bene Mamma mia Sono arrivati con le lancia granate Ragazzi ma È tipo il terzo ride Sono stati cattivissimi Adesso però Dobbiamo spegnere gli incendi Perché i campi di cotone Stanno bruciando Forse Forse Potreste Prioritizzare Lo spegnimento Di questo incendio Tutti quanti Grazie No Equipaggio Lancia granate Magari Ci penseremo No Pansy Ah sta già spegnendo il fuoco Eh non si può Più di uno Va bene Va bene così Intanto Blitz sta Curando tiffi Vediamo se riusciamo a Difficulta di reclutamento 69% Ok allora Chat and recruit E Cerchiamo di curarla Senza però Utilizzare troppi Troppe medicine Vediamo Non ha per adesso Infezioni O cose strane Ehi ragazza No C'è qualcosa che non funziona Qui Ah aspetta 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 Rex non può spegnere incendi Adesso capisco Adesso ricordo Diffi adesso non è più Zoppata Va bene Mamma mia ragazzi Questo incendio Non si mette a piovere adesso Che cazzo stai facendo Relaxing socially Ti sta bruciando Tutto il campo di cotone Tu sei su facebook Maledetti Siete la stupidità Fatta a ometto Blitz Hai rotti coglioni Tiffi la curiamo dopo Che bello che spengono gli incendi Forse Forse Non ci siamo capiti Firefight È priorità 1 Sempre Ecco Grazie Going for a walk Io ti stacco Ma che cos'è Un gioco nel gioco Dov'è il gatto? Quando serve Gatto spegni l'incendio Speriamo questi Prima che si allarghino Perché No Mi viene veramente Un po' di paura Ok Va bene Sembra che L'incendio Sia un pochino Più sotto controllo Adesso Speriamo bene Ah il gatto è arrivato A spegnere Grazie Per fortuna Uff Allora Qui abbiamo i lanciaganate Da recuperare Per Va benissimo L'altro dove sta? All'altro Si è portato via La tipa Ragazzi Andate a dormire Va Quindi domani sarà un giorno lungo Buongiorno Buongiorno signori Ok È arrivata la luce del sole Finalmente questa notte Almeno le batterie Sono riuscite a tenere botta Perché avevamo la palla eolica Che spingeva l'elettricità Quindi Weavers Un gruppo di Castori affamati È appena arrivato Cerca di distruggere I primi Che decimino Decimino Tutti gli alberi Nella regione Ragazzi ci sono Sei castori alfa Nell'angolo nord est Se li lasciamo andare Ci mangiano tutti gli alberi Da qui a fine partita Figli di Ok Avevamo appena finito Di spegnere l'incendio Nel campo di cotone Io devo fare ricerca Voglio costruire il laboratorio Forza Infezione Oh no Tifi Si è presa l'infezione Health Dobbiamo darle le migliori medicine Altrimenti non se la si fa Tra l'altro Credo che sia Blitz Il nostro Medico migliore Anzi ha 6 medicine Però non ha la passione Quindi Va bene Lasciate che sia Pansy Chi se ne frega Blitz al momento impegnato Nel costruire Il corridoio Che porta al laboratorio Cargo pose Oh yeah Altri Altri piedi di cammello No componenti Grazie al cielo Questa volta è andata un po' meglio Ci manderemo Rex Ah attenzione ragazzi Perché l'infezione Al torso È stata un po' curata Quindi adesso È un'infezione minore L'unico problema grosso Che abbiamo È che non abbiamo Ancora medicine Abbiamo 23 Medicine Che vedremo Sull'astronave Ma Finché non abbiamo L'Hill Root Che è 69% Non possiamo fare Le medicine Fatte in casa Mi passa un casino Ragazzi Pansy si è unita Tiffany si è unita Scusate Pansy ha appena convinto Tiffany ad unirsi E la cosa è fantastica Perché Allora L'infezione ce l'ha Ancora un pochino Però Penso che si curerà Ha addosso Una dotazione perfetta Perché Tessuto di cowboy Muffalo wool t-shirt Giubbotto antiproiettile E Nel corpo a corpo È molto forte E soprattutto è brava Con gli animali A costruire A scavare Agricoltura Arte Insomma Può fare di tutto Non può fare ricerca Ma chi se ne frega Abrasiva Cosa vuol dire Oh Una rompicoglioni È chemical interest Ma Non è male Insomma Abbiamo una nuova Eh Come dire Una nuova leva L'unico problemino Sono le 18 E quindi Adesso dovremmo costruirle un letto Prima che Sia troppo tardi Va bene Non sarà difficile Credo che Potremmo ricavare un letto Una stanza In questa zona Però per il momento Limitiamo La prigione E questa sarà Una stanza Che Tiffy Utiliscerà Per questa notte Accessori Magari E costiamo Una lampada a terra E Rex Costruisce la lampada Avevi l'acciaio Perché non La stazione è fallita Rex Sei terribile Almeno pulisci il sangue Ok Altro sangue La pulire Non si finisce mai Perfetto ragazzi Abbiamo 7 personaggi Non male Ne abbiamo 5 Perché ho detto 7 Diventando pazzo Allora Slate club Awful Wooden club Awful Tiffy Magari ti prendi questa Sì 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 Una mazza Non ha mai fatto male a nessuno Stiamo iniziando a perdere un po' di cibo E credo di aver terminato Le risorse Grezze Per cucinarlo Quindi In che non avremo pronto il riso O le prossime patate Oppure Il mais Non potremo fare altri pasti Ne abbiamo 21 Dove essere una buona idea Quella di non andare a caccia Rex L'indomani Però adesso ormai sono già le 20 Quindi Work work Allora Tiffy blacksmith Spegnere l'incendi primo Sempre Dottore no Caccia primo Sei brava Riparare 2 Nei campi 2 Zappare 2 Tagliare le piante 3 E tutto il resto può stare Ok 4 4 4 E 4 anche come dottore Just in case Anche se fa schifo come dottoressa Perché hanno portato delle bacche qui? Queste sono fresche Cos'è si possono cucinare? Interessante Ah va bene Direi che è giunto il momento di Mettere un po' di velocità E di portare a letto I nostri ragazzotti 1.5 di mattina Tiffy si è svegliata Tipo da 2 ore E ha iniziato a picconare Perché si sentiva piena di energie Gli altri invece Vanno a fare la loro bella colazione Però intanto che Questi finiscono di Ripulire la zona Che sarà del laboratorio Mandano qualcuno a caccia E a questo punto Andiamo a caccia di castori Perché Potrebbero diventare un problema Dove sono i castori? Ragazzi Ho perso i castori Beepers Maledettissimi Ehi Qui c'è del metallo però Non male Ecco i castori Eh mio giorno fortunato Caccia Rex Prendi il fucile Ah È già Pansy Pansy Tu Qui ha struck Acciaio a contatto Tu vuoi veramente Attaccare questi castori Con Un pugnale Comunque Intanto Direi che possiamo iniziare A fare Cose di questo tipo Muro di acciaio Bam In questo modo Non ci saranno problemi E qui piazziamo subito Una bella porta Richiude il corridoio E possiamo mettere anche Dei pavimenti magari Di legno Perché? Perché il legno è bello Ok E qui le cose iniziano a dare benone Allora Sicuramente riusciamo a ricavare Una stanza Per dormire E Sto riflettendo Sull'opportunità Di farla magari subito Qui Ad esempio Fare qualcosa di questo tipo Strutture Muro Quanto Abbiamo qui 4 per 5 Ok 1, 2, 3, 4 Quella inchiappettata Avete capito Penso di aver fatto un errore Comunque Porta Porta d'acciaio E facciamo una porta d'acciaio Che qui poi Esatto E qui facciamo il muro Cosa sta Cosa sta succedendo Ah Pansi tra l'altro è tornato Con È tornato con la carne di Castor Grandissimo No Il nostro gatto ha ammazzato un coniglio Torian Perché fai questo? Va bene ragazzi Sta arrivando una pioggia Che Dio la manda Io vi ringrazio per essere rimasti con me In questo episodio Nel prossimo episodio Andiamo avanti con la creazione Della stanza per tiffi E poi del Laboratorio di ricerca E di lavoro Il nostro lavoro Sta venendo abbastanza bene Devo dire E sono contento Di come stanno andando le cose Adesso abbiamo anche La carne di Castor Per fare le grigliate Mettete un pollicione in su Se il video vi è piaciuto Vi do appuntamento Alla prossima Per ora da Envio È tutto